Crisi energetica, crisi dei prezzi, crisi inflattiva, crisi bellica, crisi come un virus economico. La cura potrebbe, dovrebbe, vorrebbe chiamarsi PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma come tutte le medicine anche questa ha le sue istruzioni per l'uso da leggere attentamente. Così, come un farmacista della politica, si materializza in Veneto il Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, che al Teatro Comunale di Vicenza incontra imprenditori, cittadini, sindaci, per spiegare come maneggiare con cura i fondi europei. Si parte dal dato di realtà, si parte dal dato che appalti, cantieri e imprese si trovano di fronte a situazioni totalmente diverse e quindi in qualche modo dobbiamo intervenire senza stravolgere chiaramente l'impianto, ma siamo intervenuti per cercare in qualche modo, ad esempio, sulle revisioni ai prezzi, di permettere che i cantieri possano andare avanti. La promessa è questa, un fondo da un miliardo e mezzo di euro all'anno per revisionare i prezzi concordati nelle gare d'appalto e venire così incontro alle imprese che, con la raffica degli aumenti, non riescono a tenere in piedi i cantieri. Ma le aziende che compongono il tessuto produttivo Veneto chiedono risposte pratiche, a cominciare dal codice degli appalti. Siamo ancora fermi, ci sono troppe lungaggini e non vedo delle semplificazioni per agevolare l'impresa e poi nell'esecuzione dei lavori. Stiamo occupando tanto tempo sulla parte burocratica, ma poi i lavori bisogna farli sul campo e se ci restano così poco tempo rischiamo poi che le opere non possono essere concluse. Oggi gli enti pubblici per il PNRR sono strategici, diventano costruttori di futuro. I cantieri partono innanzitutto dai comuni. Quello di Vicenza ha presentato 70 progetti per un valore di 96 milioni di euro, con investimenti su ambiente, riqualificazione delle scuole e dei parchi. Fa ripuntati anche su anziani, disabili, famiglie fragili e povertà. Ad oggi però, dal PNRR, gli unici fondi già arrivati a Vicenza sono 7 milioni e 400 mila euro per la mobilità sostenibile, con l'acquisto di bus a impatto zero e 18 milioni di euro per la rigenerazione urbana. Vicenza è una provincia che sta cambiando molto, cambierà molto nei prossimi anni. Sicuramente il tema dell'alta velocità è prioritario, stiamo ragionando in questo periodo con RFI, con gli sviluppi progettuali, ma poi c'è tutto il tema della rigenerazione urbana, del PNRR e lo stiamo facendo sia attraverso i comuni che attraverso la provincia di Vicenza. Quindi stiamo lavorando tutti in asse per farci trovare pronti.